Salve a tutti, ho segnalato l'email che ho girato poi a Cruciani a Breaking Italy, quindi la trasmissione è la zanzara di Giuseppe Cruciani. Ve la leggo, ciao, scritta Breaking Italy, come si chiama lui, adesso ricaviamo il nome e lo metto in descrizione, c'è un articolo anche sulla stampa, 600.000 iscritti, milioni di visualizzazioni, è un grande. Allora, e mi ispiro anche a lui, non ne faccio mistero che il mio canale si ispiri anche a Breaking Italy come tanti altri. Allora, come marchettino, io copio i migliori, non i peggiori. Poi sai, io voglio fare visualizzazioni degli iscritti, anche se ho zero iscritti, anzi se non vi iscrivete è meglio. Gli iscritti fanno solo problemi, la monetizzazione è solamente una rimessa, perché ci perdi, paghi più tasse che quello che ti danno. Secondo, è una presa per i fondelli, perché te praticamente fai milioni di visualizzazioni. Una ragazza ha fatto 46.000, non vi dico chi è, comunque una ragazza, 46.000 visualizzazioni gli hanno dato 180 euro. Una fame, una vergogna. Andiamo avanti. Ciao, volevo segnalarti i contenuti inappropriati a questo Breaking Italy. La trasmissione non rispetta i diritti delle donne, non rispetta i minori, e al suo interno intervengono porno stare e porno attrici. Si parla delle abitudini sessuali degli italiani senza alcun tipo di censura. Mi meraviglio che la radio di Confindustria trasmetta questi contenuti. Cruciani chiama continuamente il mio numero tutti i giorni. Ho segnalato la trasmissione della zanzara all'asico. Se vuoi appoggiare la mia battaglia stampa in difesa dei diritti delle donne, vengono trasmessi frasi oscene. Qua si parla di frasi oscene. Non vado nel particolare, ma lo sapete benissimo anche voi. Alle 8 di sera, quando i bambini ascoltano. Firma questa petizione. Dopo ho messo il mio numero di telefono, ho messo E, quindi ho contattato Breaking Italy. La battaglia stampa continua. Breaking Italy è lui, per chi non lo sapesse, è un ragazzo che ha numeri record sul tubo. E l'ho girata a Giuseppe Cruciani, ovviamente, l'email.